buongiorno amici miei oggi giornata fuori triste ma a casa siamo felici fuori piove piove come vedete dalla finestra questa è mia pianta ancora che io voglio arredare nell'ingresso nel prima per scale ingresso miei e devo sistemare bene devo mettere qui sotto bel decoro una pianta bella importante 9 fiori perché pianta si giudica quanti fiori a questa c'è la 9 e dura 3 4 5 mesi 3 5 mesi questa dura guardate che pioggia vedete com'è vetri schizzati ma non importa niente poteva potevo mettere questo tettuccio perché vedete c'è qui c'è qui tettuccio che posso salvare questi vetri che non si bagnano ma domani lavo non c'è problema ma oggi io cuscino zuppa solita zuppa per regina comprato questa piccola zucca mi costa un euro 20 di questa è ingredienti importanti che deve essere arricchita con questa lenticchia rossa queste lenticchie costano tanto ma quando offerta io prendo ma più importante pezzo è questo questo spec guardate io sempre prendo sotto vuoto questi bocconcini questi avanzi guardate un pezzettino di spec 11 euro vedete c'è sempre sotto vuoto ora mi è uscita aria ma ieri portato a casa un bel pezzo di spec e 11 euro che mi dà profumo tantissimo tre patate mi basta carote doveva essere almeno tre ma c'è solo una e va bene e porro ci vuole un pochino di più ma va bene così do una anche cipolla e pochino panna no metà forse meno di metà questo un po povero perché c'è poca poca polpa qua però va bene così sarà una da regina perché questa mia preferita amici non sapere sapevate voi questa davvero cinque stelle e cominciamo a fare con questo cortello bello forte tagliamo